Non mi piace, il prete. Lo so che ha un alibi di ferro, ma non mi piace. Cazzo, un uomo che si impegna a non scopare per tutta la vita. O è molto bravo a mentire a se stesso, o si tratta di uno psicopatico, di un tipo davvero speciale. Siamo seri. Tutti si scoppano qualcosa.